Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter. Lo so, non ci vedevamo da un po', ma ho una buona giustificazione. Sono stato super impegnato per l'evento che abbiamo tenuto a Palermo a Partinico in presenza di Sean Biggerstaff, quindi l'attore che ha interpretato Oliver Buston nella saga di Harry Potter e questa cosa mi ha portato via tantissimo tempo. Ma in realtà chi mi segue su Instagram sa che non sono mai mancato da YouTube in questi mesi perché ogni settimana alle 21 va in onda il Pottercast Live. Sul canale YouTube Pottercast Live io insieme ad Alessio Salitore, Graziano di Mogra Collectables e Rudy di ThePotterBook85 andiamo in live ogni settimana alle 21 su quel canale. e abbiamo sempre ospiti diversi. L'ultimo è stato Serena Riglietti, la famosissima prima illustratrice dell'edizione italiana di Harry Potter, quindi colei che vede vita alla leggenda, al mito del senza occhiali. È stata un'intervista davvero super divertente, è durata più di un'ora, la potete recuperare sul canale. È stata super disponibile Serena e abbiamo anche gettato le basi per dei progetti futuri perché Serena ci ha sganciato un po' di bombe di cose molto interessanti a tema Harry Potter e dei progetti in collaborazione anche con noi e in modo particolare con Alessio perché abbiamo in mente di lanciare dei prodotti approvati da Serena Riglietti delle cose davvero molto molto interessanti per i collezionisti appunto del magico mondo di Harry Potter. Ma detto questo, prima di cominciare vi ricordo di seguirmi su Instagram appunto Antonio.seria di commentare questo video con tutte le domande che vi passeranno per la testa e ovviamente ragazzi trovate in info box il link alla mia vetrina Amazon e anche il codice sconto 7 Potter ormai iconico da anni e anni da poter utilizzare per i vostri regali di Natale o anche dell'Epifania o anche di Ferragosto perché il codice è sempre attivo 7 Potter cumulabile con tutte le iniziative di Pampling. Detto questo ragazzi cominciamo perché ho davvero tantissima roba da mostrarvi. Come ormai saprete tutti qualche settimana fa siamo stati appunto impegnati con l'evento dedicato a Sean Biggestaff e nelle live precedenti su Pottercast Live abbiamo discorso dei prop che abbiamo realizzato dei prop fatti apposta per l'occasione da far firmare a Sean e questi prop ragazzi sono stati un successone perché li abbiamo pensati da zero li abbiamo realizzati e sono andati praticamente sold out già prima dell'evento stesso. molti di voi li hanno già ricevuti siete rimasti tutti molto soddisfatti e siamo super contenti perché appunto abbiamo intenzione di continuare a realizzare nuovi prop da appunto da parte di collezionisti per i collezionisti quello che noi vorremmo trovare ma che non riusciamo a trovare sul mercato abbiamo deciso di farcelo da soli. E questa volta abbiamo proprio esagerato perché abbiamo realizzato ben tre prodotti il primo è qui accanto a me e si tratta della Coppa del Quidditch delle case di Hogwarts e ragazzi è stato davvero un parto questo è stato il pezzo più difficile che abbiamo realizzato la scultura della base è stata ripresa da un portachiavi ufficiale che avevamo trovato su internet un portachiavi venduto al parco di Orlando e il grandissimo Ivan Salitore lo ha scolpito da zero lo ha scolpito da zero e con le sue bellissime scope incrociate sul fronte con l'h di Hogwarts al centro e poi sul retro ecco che troviamo anche lo stemma di Hogwarts e Dulcis in fundo abbiamo anche sulla base il logo di The Potter Experience che appunto è il nome che racchiude tutti i nostri canali Pottercast, Always Wands che racchiude appunto tutti i vari soggetti che si sono messi in gioco in questa avventura e ovviamente questo è il risultato finale della pittura di Alessio Salitore Art e poi ovviamente abbiamo anche la Coppa che invece è frutto delle ricerche di Graziano che è andato in giro per la Sicilia per trovare la Coppa che più si adattasse al nostro progetto è stato davvero uno sforzo collettivo e che poi è culminato nella firma come vedete qui sul fronte di Sean Biggestaff che appunto ha autografato le coppe per tutti noi e anche per tutti voi, per tutti quelli che l'hanno preordinata e ragazzi siamo davvero molto molto soddisfatti del risultato ma noi non eravamo contenti con la sola Coppa e sempre Ivan è stato talmente bravo da riuscire a scolpire la pluffa questa bellissima pluffa con dei dettagli impressionanti come quelli delle cuciture qui sui bordi che poi sono stati messi in evidenza e arricchiti dal lavoro straordinario di Alessio che ha dipinto a mano una per una queste pluffe pluffe stampate in 8K che sono davvero bellissime e appunto con questi dettagli in oro sullo stemma di Hogwarts ha anche invecchiato i bordi, le cuciture per simulare appunto l'usura della pluffa e poi anche in questo caso tutto è culminato con la dedica di Sean sulla pluffa qui come potete vedere c'è scritto Sean è davvero un ragazzo incredibile è un ragazzo gentilissimo, educatissimo, disponibilissimo è stato veramente un piacere passare una giornata insieme a lui perché ci ha anche raccontato un po' di cose un po' di dietro le quinte dei film di Harry Potter noi gli abbiamo fatto davvero tante domande abbiamo parlato anche della serie TV gli abbiamo chiesto cosa ne pensa questa è stata davvero super super disponibile e appunto noi approfittando della sua super disponibilità abbiamo portato anche un terzo prodotto che lui ha firmato ovviamente per tutti e si tratta di questa la mazza da Quidditch questa ragazzi anche questa non esiste sul mercato non esiste comunque un prop che va a riprendere fedelmente quelli utilizzati nei film così come non esiste una pluffa da mettere in esposizione perché quella che vendono agli studios è una pluffa in gomma che io non ho mai comprato nonostante sia andato due volte agli studios perché secondo me non ne vale la pena ed è davvero molto molto delicata e mettendola vicino a fonti di calore o comunque lasciandola esposta ai raggi del sole probabilmente si va a decomporre a rompere tutto il rivestimento che c'è sopra che è una finta pelle e quindi non l'ho mai preso lo trovo davvero molto molto scadente mentre adesso finalmente abbiamo questa che è una pluffa in scala davvero bellissima che va a riprendere in tutto e per tutto quella originale e poi è firmata dal capitano Baston mentre per quanto riguarda la nostra mazza anche questa qui in legno in questo caso ha la firma di Sean Biggestaff qui in bianco e poi abbiamo le bocche queste parti metalliche che sono state rifinite da Alessio abbiamo anche questa impugnatura qui in corda e abbiamo anche questo cartellino che la va a rifinire con sempre il logo di The Potter Experience e anche del Marchingegno perché in questo caso ci siamo appoggiati al Marchingegno che per quanto riguarda il legno sappiamo essere il numero uno nel campo di Harry Potter e non solo infatti lui ha realizzato il mio specchio delle brame ha realizzato le insegne di Notton Alley di Hogwarts la porta della camera dei segreti e chi più ne ha più ne metta conoscerete benissimo Marco il Marchingegno quindi i nostri tre prop come vi dicevo sono andati a ruba sono andati sold out siamo felicissimi sono stati tutti autografati da Sean anche lui è rimasto colpito da questi oggetti ne siamo rimasti molto molto soddisfatti anche noi e quindi questo evento devo dire che è stato davvero un gran successo e non vediamo l'ora di poterne fare altri in futuro e di poter creare nuovi oggetti in futuro quindi ragazzi ve lo dico se siete interessati non solo a quello che io ho da dire o gli altri di noi hanno da dire ma anche ai prop ai prop che ci saranno in futuro a quello che faremo insieme a Serena Riglietti in futuro io vi consiglio caldamente di seguirci sull'altro canale YouTube Pottercast Live perché ogni settimana ci sono grandi novità e soprattutto a breve lanceremo dei nuovi format che secondo noi sono davvero molto molto interessanti e curiosi delle cose che non si sono mai viste su YouTube quindi mi raccomando supportateci e poi durante questa vacanza lavorativa che abbiamo fatto a Palermo tutti insieme ho ricevuto anche due regali da parte proprio di Alessio che non finirò mai di ringraziare Alessio è davvero una persona indescrivibile vi voglio un gran un gran bene e Alessio mi ha portato questo da Londra dagli studios mi ha portato questa decorazione con Harry che fissa l'albero di Natale della Sala Grande perlomeno va a riprendere i decori dell'albero della Sala Grande lo trovo davvero bellissimo e adesso lo andrò a mettere nel mio albero a tema Harry Potter e davvero ringrazio tantissimo Alessio così come ringrazio anche Giorgia perché davvero lo volevo tantissimo io avevo già visto questa decorazione su un canale youtube inglese me ne ero veramente innamorato è molto molto bella gli ho chiesto il favore di prendermela gliel'avevo commissionata e loro invece me l'hanno voluta regalare quindi davvero grazie grazie mille e poi altra sorpresa che ci è stata fatta ad Alessio non solo a me ma anche a Rudy e a Graziano con lo zampino di Fabio e Chiara che io saluto che ci seguono sempre sia sui nostri canali singoli sia su Pottercast Live sono davvero super super affezionati dobbiamo ringraziarli tutti tantissimo ecco che Alessio ci ha regalato la stampa una stampa a testa autografata da Apolar Apolar è stato a Games Week di Milano qualche settimana fa e Fabio era lì insieme a Chiara e Alessio gli ha spedito le sue cartoline che vanno a riprendere le copertine di Apolar queste erano in omaggio acquistando la saga thailandese quindi quella originale veniva dato una cartellina con tutte e sette le copertine lui ha deciso di privarsi di queste cartoline di mandarle a Fabio le ha fatte autografare e ne ha regalata una a ciascuno di noi quindi io lo trovo un gesto davvero davvero indescrivibile questo non fa altro che avvalorare quello che ho detto prima Alessio è una persona davvero incredibile e sono davvero onorato che sia mio amico perché oltre a essere un grandissimo artista è anche una persona meravigliosa sono davvero super super contento di tutto quello che quest'anno mi è arrivato grazie a questo canale youtube perché grazie a questo canale youtube quest'anno sono stato chiamato ad etna comics per fare la mostra grazie a quella mostra ho potuto incontrare finalmente dal vivo rudy ho potuto incontrare finalmente dal vivo alessio e naturalmente graziano lo conoscevo già mi ha dato una grandissima mano ad allestire la mostra che è stata ad etna comics da lì è nata un'amicizia davvero molto profonda abbiamo fondato potter cast live e oggi siamo qui e ci vogliamo un bene dell'anima e quindi ragazzi questo sta a dimostrare anche come a volte le amicizie nate online siano davvero molto molto importanti e possano andare oltre al virtuale e concretizzarsi nel reale detto questo la smetto con tutte queste smancerie e ragazzi io spero che queste cose vi siano piaciute vi ringrazio ancora una volta tutti quelli che hanno preordinato i nostri prop per tutti quelli che sono venuti durante l'evento a farsi una foto con Sean a farsi fotografare i libri chi più ne ha più ne metta è stato davvero molto molto bello e ovviamente vi consiglio di dare sempre un occhio al sito di Always Wants perché erano lì in vendita questi prop qualora dovesse saltare fuori qualche pezzo extra lo trovate sempre lì su Always Wants e quindi mi raccomando vi lascio anche il suo link sotto in info box detto questo ragazzi io adesso chiudo il becco vado a mettere queste meraviglie nella mia collezione che come sapete è stata resettata perché ho venduto quasi tutto e adesso abbiamo fatto un upgrade come potete vedere stiamo cominciando a bomba perché abbiamo articoli autografati da Sean Biggestaff ho già aggiunto una bacchetta firmata da Mark Williams il signor Weasley ho anche il busto di Alessio di Piton che mi è stato autografato sia da Alessio finalmente che anche da Francesco Vairano il doppiatore di Severus Piton abbiamo la stampa firmata da Polar e ragazzi arriveranno anche tantissime altre novità sono super contento fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti mi raccomando seguiteci sui nostri profili Instagram andatevi ad iscrivere subito a Pottercast Live e seguite andate a recuperare la live con Serena Riglietti perché ve la consiglio davvero tantissimo e ragazzi detto ciò chiudo il becco e vi do appuntamento alla prossima ciao ciao ciao